Salve a tutti Questa è una guida in italiano per come rimuovere QV06 E' un sito fastidioso, nel senso non è niente di pericoloso Però tutte le volte che cliccherete sul vostro browser vi aprirà il loro motore di ricerca Semplicemente è un sito per andare sui loro sponsor e tutte le varie cose Per aumentare appunto il loro traffico E non è un grossissimo problema, comunque vi conviene rimuoverlo perché potrebbe sempre essere fastidioso Allora, molti spiegano semplicemente di schiacciare il tasto destro su proprietà e rimuovere la stringa httpqvqv06.com Ma quello è un solo passaggio E' un passaggio che non risolve definitivamente il problema perché nel momento in cui spegnerete il computer e lo riaccenderete Ritroverete di nuovo la stringa qv06 e di nuovo riandrete su google o su internet explorer Ritroverete invece di google o qualsiasi altro motore di ricerca o nuova scheda Ritroverete qv06, il che è parecchio fastidioso Allora, questa guida è divisa in 5 passaggi Come dal sito qui ho preso il frimento Ho preso il frimento Togliamo questa pagina La pagina è in inglese E spiega in 5 semplici passaggi come risolvere il problema Siccome so che in Italia, magari in inglese, non è la lingua più amata E fanno un po' fatica tutti a parlarlo Ho deciso anch'io di seguire quello che fanno qua E l'ho fatto questo video italiano Anche perché appunto su youtube è più facilmente raggiungibile di un sito Qui ci ho messo comunque un paio di ore a trovarlo Primo step è rimuovere qv06 dal computer con la dvcleaner La dvcleaner lo troverete al link diretto di download come passaggio 1 Nelli dettagli Anche questo sito lo troverete nei dettagli Semplicissimo, facciamo partire il programma Consentite Cosa dovete fare? Schiacciate scan Ok, ho saltato il lavoro Comunque non dovrebbe metterci di più di un paio di minuti Cosa dovete fare? Io non lo faccio perché se no mi si rivia tutto il computer E devo rimettere un nuovo video, devo montare Quindi evitiamo Dovete cliccare su clean Ah, prima scusate Prima, come c'è scritto qua Please uncheck all'amensi di Dumont to remove Praticamente significa di andare a cercare tutti i file E rimuovere quelli che non volete che vengano rimessi Vabbè, voi avrete una lista molto più lunga probabilmente in varie parti, soprattutto registro E niente, questo è il tutto Voi schiacciate clean Appena avrà finito ci metterà anche lì poco Vi dirà che se è successo questo significa che non siete stati attenti a scaricare programmi Infatti questo si trova molto spesso in installer non ufficiali Comunque non vi preoccupate, voi ha schiacciato ok, ok E alla fine si riavvira il computer Vabbè, non usciamo Qui mi dice, ovviamente non l'ho pulito Quindi si arrabbia Se avete capito questo passaggio Andiamo al passaggio 2 E mi dice Clean up the various windows shortcuts that have been hijacked by QVO6 virus Anche qua è molto semplice Allora innanzitutto Ecco arriva al passaggio quello che conoscono tutti Che è quello di rimuovere la seconda parte Su tutti i browser In teoria dovrebbe averlo già fatto a DVCleaner Però per sicurezza andate comunque a controllare Continua Ok E dovete farlo su tutti i browser che avete Quindi nel mio caso l'ho messo manualmente solo su Google Chrome per farvi vedere Ma dovete farlo con tutti In più dovete essere sicuri che andando su opzioni Poi potete semplicemente andare voi in base al vostro browser che usate All'avvio probabilmente vi ritroverete Apri in una pagina specifica E tra in posta pagina avrete appunto QV06 Cancellatelo Schiacciate ok E poi mettete la vostra Quello che preferite Io metto la pagina di nuova scheda E altro La ricerca Motore di ricerca Ci sarà QV06 Voi rimuovetelo Non deve assolutamente esserci Tenete Google Lo stesso vale per Intel Explorer Firefox Avranno i loro metodi Ma semplicemente potete trovare su Google come fare Se proprio non lo sapete Comunque dovrebbe essere un ingranaggio Impostazioni Eccetera Bene Arriviamo al terzo passaggio Rimuovi QV06 Virus dal tuo web Con Junkower Un nuovo al tool Ok Questo è molto semplice E anche questo qua è un file molto leggero È molto leggero Aprite No Mi dice di Di aggiornarlo Ma evitiamo Anzi Come anche nel caso del programma precedente Salvate sempre Prima di far partire il programma Perché ve li chiuderà E solitamente dopo c'è un riavvio del computer Allora Infatti qua dice Please save any work in your browser before proceeding Your desktop may temporarily disappear during the scan Allora il vostro desktop potrebbe momentaneamente scomparire durante lo scan E anche una finestra di Windows Explorer potrebbe aprirsi Queste azioni sono tutte normali Non preoccupatevi Con quello che c'è scritto La mail disclaimer Quando continuerete con un qualsiasi tasto Vedrete che iniziano ad aprire delle scritte Come potete vedere nel sito Quello che vi ho messo nel Questo qua Vi ho preso di riferimento Vedrete che vengono fra delle scritte Sembra che si impalli Perché non succede niente Non vi preoccupate Va avanti Da solo tranquillo Voi non fate niente E in pochi minuti avrà risolto il vostro problema Bene Andiamo al step 4 Remove QVO6 malicious files with more bytes anti-malware free Ecco il step 4 sarebbe quello di l'anti-malware Che secondo me è uno dei migliori Ve lo consiglio assolutamente Cliccate Ci metto un attimo ad aprirci Ecco si è aperto Fate semplicemente la scansione veloce E eseguite Vi farà la scansione Vi troverà tutti gli elementi che non va bene A sto punto mi sa che faccia più un attimo No ci metterà un paio di minuti Quindi lasciamo stare Io la interrompo Voi cosa dovete fare semplicemente Come al solito Quando avrà finito Schiacciato ok Controliamo di non dire delle cavolate Esattamente Vedete The scan Vi mostra i risultati Voi rimuovete quelli selezionati Che sono tutti La lista sarà probabilmente anche molto lunga E basta Per questo non dovete fare Nient'altro Probabilmente il computer si riavvierà Come al solito Vi è consigliato di spegnere tutti i programmi Prima di fare partire Siccome tanto io non sto Attento Adesso è solo un video Per mostrare Non l'ho fatto Però vi conviene sempre spegnere tutti i programmi Interrompo la scansione Sicuro Ecco Esattamente Vi viene un file di testo semplicissimo Qui c'è scritto Cosa è stato fatto Chiudiamo Bene Dopo aver fatto questo Abbiamo lo step 5 Rimuovere No scusatemi Andiamo giù Lo step 5 Fare un doppio check Per essere sicuri C'è sempre il link Quando Lo state installando Avrete una finestra del genere Create shortcut Vabbè Queste sono le certe impostazioni Se fate questo Vuol dire che rimane installato Se fate l'altro Vi fa solo un check E basta E dopo dovrebbe eliminarsi Se non sbaglio Nel caso Vogliate anche avere Delle Delle notizie Saggiornati Potete tenere questa cosa Delle email Ma io ve la sconsiglio Cioè Nel senso Se vi interessa solo il nuovo programma Non serve Comunque Semplicemente Facciamo partire nel programma Così ci chiariamo Ecco Sentite E semplicemente Ok Io ho già attivato Le licenze gratuite Io faccio avanti E inizia la scansione Vabbè Io fermo Perché tanto Esattamente E nessuno Mi l'accelerata Vabbè Niente Cosa succede qua Il passaggio più importante Quando avrete finito Siete sicuri di avere Che sia Che Abbiamo trovato i file Che siano selezionati tutti E Arrivedete a questa finestra Che vedete qua Qua Ci sarebbe Il product case Se volete acquistare Basta che Chiamate Insomma Vi dicono il codice Pagate Ma Siccome volete rimuovere Il sito gratuitamente Basta che andate su Activate free license The This one Time license Valid for 30 days In italiano E c'è scritto anche in italiano Attivate la licenza gratuita Questa È una licenza Valida Solo per 30 giorni Cliccate lì E vi pulirà Il tutto Questo dovrebbe essere tutto Vi conviene Come qua c'è scritto Se volete Potete donare al sito E E Se volete Lasciate anche dei commenti Dato che vi chiedono Callamente Di Di fare un commento Per Diciamo Far capire agli altri Che questi passaggi funzionano Se volete Commentate anche qua Se avete delle domande Chiedete Io non sono un esperto informatico Io ho semplicemente Seguito le istruzioni E tradotto Comunque qualcosa mi intendo Quindi se avete qualche problema Chiedetemi che magari Risco a trovare una soluzione Per il resto Ho finito Spero di aver risolto Il vostro problema Se non l'avete risolto Chiedete pure Ecco Grazie Alla prossima Sì dai Alla prossima